Benvenuti nel Holtz Bau Lab. Lo Holtz Bau Lab su Convink accompagna i professionisti del settore delle costruzioni in legno in diverse situazioni durante il loro percorso di apprendimento permanente. Vuoi conseguire un titolo federale come caposquadra, capocarpentiere o maestro carpentiere? O perfezionare le competenze dei tuoi dipendenti? Vorresti acquisire nuove conoscenze nel settore delle costruzioni in legno? Aggiornare le conoscenze che già possiedi o informarti sugli ultimi sviluppi in materia di prodotti? Oppure sei un insegnante e stai cercando strumenti per strutturare il tuo insegnamento in modo efficiente? Nel Holtz Bau Lab ti bastano pochi clic per trovare tutto ciò che ti serve. E non è tutto! Nel portfolio personale puoi riunire tutte le esperienze e competenze e i tuoi sviluppi che potrai così avere sempre e ovunque a portata di mano. Ora ti mostriamo come funziona. Lui è Massimo. Massimo si sta dedicando alla sua formazione continua nel Holtz Bau Lab per diventare caposquadra. Dopo la formazione di base ha lavorato per otto anni come carpentiere ma a un certo punto ha capito che voleva di più, più conoscenze tecniche e più responsabilità. Nel Holtz Bau Lab trova tutti i contenuti didattici necessari per conseguire il titolo federale suddivisi per tema che può consultare in qualsiasi momento. I contenuti sono preparati in modo orientato alla pratica e Massimo ha accesso agli ausili che può usare nel lavoro quotidiano. Nei video gli viene spiegato passo dopo passo come si realizza ad esempio un elemento strutturale complesso. Poiché tutti i contenuti sono disponibili online, Massimo organizza autonomamente i tempi dedicati all'apprendimento e procede con i propri ritmi. Inoltre sa già che nel Lab sono disponibili anche i contenuti didattici per la successiva formazione continua per diventare capo carpentiere. Lui è Gianni. Gianni utilizza il Holtz Bau Lab nella sua azienda per offrire ai suoi dipendenti una formazione continua orientata alle competenze. Sceglie i moduli in modo mirato che a suo avviso possono essere utili ai suoi dipendenti. Qui trova una spiegazione dettagliata e comprensibile delle conoscenze tecniche relative al settore delle costruzioni, così come moduli sul tema della gestione dei dipendenti preparati in modo specifico per il suo settore. In questo modo consente ai suoi dipendenti di svolgere una formazione continua specifica e di acquisire competenze gestionali senza troppo sforzo. Lui è Tommaso. Tommaso utilizza l'Holtz Bau Lab in relazione al suo lavoro di agente di sicurezza. Nel Holtz Bau Lab trova consigli utili e nuovi input per la sicurezza sul lavoro sia in azienda che in cantiere. Inoltre ciascuno dei suoi dipendenti ora è tenuto a elaborare regolarmente i moduli di competenze relative ai temi della sicurezza sul lavoro e della protezione sanitaria. Da quando vige questo obbligo il numero di infortunati e feriti nei cantieri è diminuito notevolmente. Se non è un risultato positivo questo. Lui è Rodolfo. Rodolfo utilizza l'Holtz Bau Lab per aggiornare le sue conoscenze sulla pianificazione dei cantieri. Il suo ultimo corso di formazione continua come caposquadra risale a 14 anni fa. È giunto quindi il momento di aggiornarsi sulle disposizioni sui cantieri. Nel Holtz Bau Lab ha trovato proprio ciò che stava cercando. Istruzioni e ausili specifici per il suo settore che gli mostrano nel dettaglio come può migliorare la pianificazione dei suoi cantieri e a cosa deve prestare particolare attenzione. A questo punto può iniziare in tutta tranquillità il suo nuovo progetto. Lei è Maria. Maria utilizza lo Holtz Bau Lab per seguire gli sviluppi dei nuovi prodotti nel suo settore. Ovviamente potrebbe visitare qualche fiera affollata, navigare su vari siti web e confrontare i prodotti, ma esiste anche una strada più semplice, lo Holtz Bau Lab. Le basta un clic per avere accesso a tutti i prodotti disponibili. Qui trova ad esempio le istruzioni di montaggio degli ultimi modelli di lucernario. Inoltre tramite lo Holtz Bau Lab può selezionare e confrontare i prodotti adatti ai suoi progetti di costruzione, in qualsiasi momento e ovunque si trovi. Lui è Martino. Martino è insegnante nel corso preparatorio per futuri capo carpentieri e utilizza lo Holtz Bau Lab per strutturare il suo insegnamento in modo efficiente. Seleziona i moduli per i suoi partecipanti, che possono così usarli per prepararsi alla lezione con i loro tempi. Questi sono consultabili online, da telefono cellulare o da qualunque posto. In questo modo durante la lezione in aula si può dedicare più tempo agli esercizi pratici, agli esempi pratici e agli approfondamenti tematici. Lei è Isabella. Sei mesi fa Isabella ha sostenuto l'esame per diventare caposquadra. Da allora svolge tanti nuovi compiti interessanti nella sua azienda. Poiché sta facendo tantissima esperienza pratica, vorrebbe documentarla in maniera chiara. Inoltre, le piacerebbe illustrare le nuove competenze acquisite e messe in pratica e condividerle con il suo superiore. Uno strumento utile per fare tutto ciò è il prodotto personale nel Holtz Bau Lab. Qui documenta le sue esperienze pratiche nella retrospettiva e mostra le sue competenze sulla base di progetti svolti nel lavoro quotidiano. Servendosi della griglia di competenze e della verifica della disposizione, esamina le sue competenze e può contare su un luogo di archiviazione centrale per i controlli delle sue competenze. In questo modo è sempre pronta ad affrontare un colloquio con il suo superiore o un colloquio di assunzione. Siamo lieti di potervi accompagnare con lo Holtz Bau Lab nel vostro percorso di formazione continua nel settore delle costruzioni in legno. Vorremmo assicurare un futuro al settore delle costruzioni in legno attraverso un apprendimento permanente e a tale scopo offriamo una soluzione online che garantisce una formazione continua e individuale e lo sviluppo delle competenze. Il nostro obiettivo primario resta sempre lo stesso, offrire una formazione continua orientata alle competenze in uno dei settori più tradizionali della Svizzera.